Un film cortometraggio girato tra Ortona e Padula di Cortino per rievocare le vicende del brigantaggio abruzzese sui monti della Laga e la leggendaria figura del bandito Marco Sciarra. Si intitola Pesa un filo, il progetto a cura della proloco di Padula. L'iniziativa è patrocinata dalla presidenza del Consiglio regionale d'Abruzzo, dal Consorzio BIM, dai comitati delle due Sicilie e anche la partecipazione dell'Università dell'Aquila con uno spin-off universitario che coinvolge il laboratorio di elettronica industriale. Il film cortometraggio ha sette scene. La prima viene girata a Ortona, la seconda la gireremo nei pressi di Cortino in un paesino abbandonato e poi le altre cinque scene tutte quante all'interno del paese di Padula. Le ultime due le gireremo all'interno di una vecchia cucina dove faremo la docanda del brigante dove poi il nostro Marco Sciarra verrà tradito dal Battistello e verrà ucciso. Completamento del film entro dicembre, quindi entendo quest'anno? Sì, assolutamente sì. La settimana prossima gireremo prima scena con l'aiuto in zona di Ortona di Mauro Vanni in arte, il nostro Marco Sciarra che si è dato disponibile su tutto. Un'esperienza che porta avanti oramai da quasi 15 anni, dal 2001 e quindi è un personaggio che mi calza a pennello. Oramai lo stesso Sciarra mi ha insegnato ad amare questi luoghi, i monti della Laga, le persone di Padula che sono delle persone speciali, Claudio, tutti gli amici, la famiglia. Quindi sono uno di loro, quindi ho questo personaggio nel sangue, quindi sono qui. Un progetto questo nel segno della continuità con la notte dei briganti? Sicuramente noi con questo progetto pensiamo di ridare vita un pochino alla notte dei briganti che purtroppo per noi si è interrotta qualche anno fa ed è rimasta un pochino comunque nei nostri pensieri, nei nostri desideri.